La chiusura del punto nascita di Casarano è arrivata come una doccia fredda ed ha già scatenato la battaglia del territorio pronto con ogni mezzo, anche con Facebook, a chiedere all'esecutivo regionale di rivedere la propria posizione. La misura restrittiva non prevedeva infatti il sacrificio di quella struttura, ma piuttosto di quella di Scorrano. La scelta è ricaduta su Casarano per evitare una profonda crisi nella maggioranza. Sui punti nascita infatti si è consumata una vera e propria guerra. Da un lato l'Udc, dall'altro il PD e di mezzo la Giunta. Il presidente regionale dello scudo crociato, Salvatore Negro, ha condotto a lungo una battaglia nei corridoi di Via Capruzzi per salvare il reparto di Scorrano. Chiuderlo, dice, avrebbe comportato un colpo troppo duro per il Sud Salento. La scelta dunque doveva ricadere su Galatina, ma il risultato delle recenti elezioni amministrative ha consegnato la città al Partito Democratico, che dunque non intendeva cedere troppo facilmente. Viceversa, le stesse elezioni amministrative avevano consegnato Casarano al PDL. Oltretutto, i Democratici dovevano difendere anche il punto nascita di Grottaglie, che ha scatenato una guerra durante i lavori del Consiglio regionale. L'assessore alla Sanità Attolini tardava a dare segnali di apertura e il PD ha battuto i pugni sul tavolo minacciando di non votare in aula il piano tagli. La mediazione momentanea l'ha condotta il capo opposizione Rocco Palese, che ha consigliato alla Giunta di approvare subito la delibera, lasciando in sospeso alcune strutture. E così è stato. Nel chiuso della Giunta si sono ultimate le trattative. Scorrano salva, grazie all'Udc. Galatina salva, grazie al PD. Dunque, la scelta forzata è ricaduta su Gallipoli e Casarano. Il primo è sempre in quota scudo crociato, per cui impossibile da salvare dopo Scorrano. Casarano invece è marchiato PDL, motivo per il quale, ai fini dell'approvazione in aula, non gode di voti determinanti. Ora la misura arriverà in commissione e lì inizierà il secondo round della battaglia. Il centrodestra, infatti, difficilmente lascerà che l'area ionica resti totalmente orfana di punti nascita. Ma è altrettanto difficile immaginare che Attolini sia pronto a nuovi sconti. Meno sofferta la chiusura degli interi ospedali. Nescono indenni Fasano e Mesagne, l'unico ad essere riconvertito sarà Nardò.